Allora, go! Siamo pronti? Si è. A gentile richiesta. Benissimo, go! Allora, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but it again, a few dimensions. I did what I had to do, I summed it through, without expansion. I played in the journey course, each car full step, along the barry way. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there was time, I'm sure the new, when I've been old, more than I've gone through, but surely know, when he wanders, I hit him up, I hit him down, I fast in old, and I sit tall, and did it my way. Me ne faccio mezza perché dura attrettanto. Spero che abbia già detto. Grazie del tuo intervento, bellissimo, e sei bravissimo nel vero senso della pace. Non è un complimento perché sei presente, ma perché è la verità. Saluti da Tischia. Grazie amici iscrivani, un saluto da Marco, Marco Rei e dalla mia compagna Giussi. Benissimo, ciao. E per questo pubblico meraviglioso, diciamo l'occhiare scuri per le strane. Andate sulla nostra music live, Marco e Giussi. Siamo pronti per venire qui a Ischia e deliziare anche le vostre serate. Se volete chiamateci. E a scocchiare le vostre orecchie. Andate nel nostro sito, grazie.